NAMASTE, io sono un registro breve e ben dettornati ad un altro episodio di Superhot C'è stato detto di non cliccare Superhot E io tiro Vediamo che cosa succede Ok, ci permette di entrare E vediamo se abbiamo un nuovo livello Eh sì Uh, salta giù, abbiamo una katana Abbiamo una zona con le due scale, possiamo saltare E za Ho mancato miseramente Ops Facciamolo meglio Za Za E adesso continuiamo a uccidere i nemici invece Non sto beccando nessuno Infatti Ricominciamo Ah Diciamo a riprenderci anche la spada Corrono tanto, eh Quindi devo sparare tipo Qua Addirittura Ah, l'ho mancato di pochissimo Lanciamo la katana là sopra Ah Però non ce la faccio col tempo Riproviamoci Hop Sto sbagliando un sacco Wow Vediamo se riesco a posizionarmi meglio Qua Ok Ok, adesso l'ho preso Ehm Qua Troppo Troppo Qua Preso E questo Dispariamo Qua Vediamo il candelabro Vediamo un teschio Teschio ha funzionato Ok Ce l'abbiamo fatta Super Andiamo di continuare al prossimo livello Questo è stato un po' difficile Ma devo riprendere un po' la mano Sono in una posizione scomodissima Avevo un telefono Questo è molto Matrix Hop Ho 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 Dove pensieri andare tu Dove averne uccisi un paio tutti insieme Qua ho mancato miseramente tutti Questo glielo lanciamo a lui Arrivano altri Ah mi ho beccato all'ultimo Maledetto Ok riproviamoci Ci hanno chiamato per lei Vediamo di andarvi qua Potremmo che spari lui Adesso sparo io La nostra pistola che è più carica Cucu Questa mi beccano appena mi muovo verso di loro mi sparano Ci hanno chiamato per lei Poi prendiamo questa Spariamo questo Lanciamo su questa Prendiamo la sua Sprecato un sacco di tempo Ma gli abbiamo distrutto la pistola Benissimo Quindi io posso andare da questa parte E sparare a lui No No Hai finta di Si è bloccato qua Ok Stavo cercando di andare a prendere questa pistola qua Probabilmente Cucu Lora Così 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 Aspettiamoli qua Abbiamo un sacco di pistole e robe varie Ok Ok ce l'abbiamo fatta Wow Vediamoci in finale Soprattutto Il finale mi è piaciuto un sacco Perché ho sparato 8000 cose tutte insieme Cucu Ho fatto un 360 che neanche Call of Duty Ok e vediamo di Andare avanti Oddio 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 Mi hanno scoperto Di nuovo Oh oh Tu Non hai Tenuto La tua Parola Adesso vengo a farti visita Vai Anzi Vai a farti visita Tu sai La via È Casa mia Questa Che figata Quindi sono collegato a una macchina Imparerai Imparerai per la via Per la strada difficile Vedi se fa male Che figata Quindi io sono il personaggio Cioè Questo è il mio corpo Però sono all'interno di un mondo E sto guardando me stesso da dietro Praticamente Se vedete adesso Guardo di qua Guardo di qua E vedete che il personaggio si muove la testa E si muove la telecamera E tutto Mi dice di darmi un pugno Au Mi sono dato un pugno da solo E adesso mi disconnetto Quindi non è un gioco Come va la testa? Mi fa male Dovrebbe Stai Stai trattando il sistema come un gioco Non è un gioco E' uno strumento Non posso controllarmi Non sto neanche scrivendo queste parole Infatti è vero Perché io sto scrivendo tutt'altro Non voglio farlo No Non so cosa fare Si che lo sai Vai via Hai sofferto un trauma Alla testa Cerca attenzione medica Niente di questo sta succedendo E' qua che la tua storia finisce Io gioco Abbiamo già parlato di questo Non posso più fare nulla Non posso cliccare più niente Tutto quanto è andato in errore Proviamo a fare quit Sto chiudendo il gioco Ricordati Stiamo guardando E come in Undertale Non a caso L'abbiamo fatto dopo Mi è uscito al desktop Quindi in questo momento Non vedete il mio desktop Ma sappiate che c'è Quindi riavviamo il gioco E vediamo se si può continuare Intregante questa cosa Perché alla fine Noi stiamo giocando All'interno di un gioco In cui c'è un gioco Dentro un gioco Dentro bellissimo Bellissimo Mi piace Mi piace Mi piace Mi piace E adesso come vedete Si sta riavviando da capo Ma non vanno benissimo Le cose Cosa mi sta succedendo Non posso fermarmi Super hot Super hot Super hot Super Stai giocando ancora A quel gioco? Questo sto parlando Sto parlando con l'altro ragazzo Che mi ha dato La possibilità di giocare La possibilità di giocare Ciao a tutti Pondola dei Stai giocando Stai giocando Grazie.